Il termine colico addominale è un termine quanto mai generico, eppure molti pazienti lo usano per indicare un dolore di media, forte intensità localizzato proprio ai vari quadranti dell'addome. Eppure il dolore a tipo colica ha delle caratteristiche molto particolari. Va innanzitutto detto che è un dolore di forte intensità che insorge in maniera quasi improvvisa e abbastanza rapidamente raggiunge un suo acme per poi decrescere fino quasi a scomparire e poi purtroppo ritornare dopo un periodo più o meno lungo. Se potessi definire il dolore a tipo colica come una figura geometrica, lo disegnerei come un sinusoide. C'è poi da considerare che il dolore a tipo colica non è caratteristico di tutti i visceri e gli apparati del nostro corpo, ma è proprio caratteristico di visceri cavi dotati di muscolatura liscia. Sarà compito del medico differenziare con una accurata anamnesi ed una accurata visita medica se quindi si tratta veramente di un dolore a tipo colica, quello che il paziente ci riferisce, oppure si tratta di altre forme di dolore e soprattutto di che tipo di colica si tratta. Perché quando genericamente noi parliamo di coliche addominali di solito ci riferiamo a coliche intestinali, coliche biliari e coliche reno-ureterali. Ai giovani studenti in formazione, studenti di medicina del terzo anno, spesso chiedo loro all'inizio del corso se qualcuno non ha mai avuto una colica intestinale. E c'è ogni tanto qualcuno che alza la mano. Ora, io con stui dico ma non sarei mica un androide. Chiaro, è una battuta. Questo però serve a dire che io non credo che esista qualcuno che non abbia mai avuto una colica intestinale dal momento in cui è nato, quindi è stato neonato e poi è cresciuto. Perché questo? Perché le coniche intestinali sono molto molto frequenti. Il paziente che accusa una colica di tipo intestinale spesso non riesce a definire la sede esatta in cui lui accusa questo dolore. Quindi non riesce a localizzarlo ma lo definisce diffuso a tutti i quadranti dell'addome. Chiaramente l'intestino è un viscere cavo dotato di muscolatura liscia. Le cause in questo caso quindi di una colica di tipo intestinale possono essere e di tipo fisico, anche un colpo di freddo improvviso può causare una colica di tipo intestinale oppure può essere una noxa floggistica, quindi un evento infiammatorio o una noxa infettiva come avviene per esempio durante anche una virose intestinale anche di tipo influenzale o una situazione tossinfettiva alimentare o fino anche a una situazione di stress o da ultimo, per soggetti che sono intensamente meteorici, delle bolle d'aria. Spesso e volentieri alla colica di tipo intestinale si associano e disturbi di carattere digestivo fino ad arrivare alla nausea, al vomito o alterazioni dell'alvo ovvero sia la modalità di andare di corpo quindi si associano anche per esempio episodi di diarrea. È chiaro che il medico farà una curata anamnesi e visiterà il paziente e farà tutta una serie di manovre per quanto riguarda la visita medica dell'addome per il quale rimandiamo al nostro video specifico che già esiste pubblicato su questo canale. Naturalmente il medico dovrà anche saper differenziare situazioni assai più gravi come subocclusioni o occlusioni conseguente a patologie di tipo infiltrativo che chiaramente meriteranno degli accertamenti più approfonditi con carattere d'urgenza. Diverso è il discorso invece per quanto riguarda le coliche biliari. Un paziente che accusa una colica di tipo biliare riferisce dolore localizzato in ipocondrio destro e nella regione epigastrica. Si tratta chiaramente delle regioni superiore destra dell'addome e centrale superiore dell'addome. Per vedere bene la suddivisione delle varie regioni addominali anche qui rimando al video già pubblicato sull'esame obiettivo sulla visita dell'addome. Questo dolore chiaramente avrà un'insorgenza acuta raggiungerà un acme molto velocemente per poi decrescere fino quasi a scomparire e ripresentarsi se non viene superato un eventuale ostacolo che determina l'evento colica biliare oppure non vengono intraprese terapie con degli antispastici che però spesso e volentieri solo parzialmente possono lenire il sintomo. L'irradiazione è importante per capire se si tratta veramente di una colica biliare. Infatti l'irradiazione del dolore a tipo colica conseguente a patologie della via biliare principale si irradia tendenzialmente verso l'alto fino alla scapola di destra o addirittura alla regione della spalla o anche al rachide, quindi alla colonna vertebrale in sede dorsale. A questo punto dobbiamo staccare un attimo e parlare di che cosa può causare una colica biliare. tendenzialmente la patologia che più frequentemente è causa di questo sintomo è una litiasi litos in greco vuol dire pietra quindi una calcolosi della colecissi o della via biliare principale. Ma attenzione perché al contrario di come forse dei non addetti a lavori credono la presenza di calcoli all'interno della cistifellea non causa dei dolori a tipo colica perché non c'è una vera e propria ostruzione ma piuttosto causerà dei dolori di carattere vago associati a difetti della digestione come intenso meteorismo con fiore posprandiale come sensazione di pirosi quindi digestioni prolungate ma non dei veri dolori a tipo colica. Questi possono insorgere nel momento in cui un calcolo migra dal fondo della colecisti e va ad incunearsi in quello che va sotto il nome di dotto cistico e il collegamento tra la vescichetta biliare e la colecisti e quella che va sotto il nome di via biliare principale il coledoco e il resto delle vie biliari. A questo punto il calcolo causerà una ostruzione contro la quale la colecisti che è dotata di pareti muscolari tenterà di contrarsi per superare questo ostacolo che si è formato. Ecco quindi che soprattutto questo tipo di sintomatologia potrà rinnovarsi tutte le volte che il paziente fa dei pasti con dei cibi che tendenzialmente sollecitano la contrazione della colecisti che può essere dei cibi grassi oppure delle uova per esempio. Se il calcolo non si muove il destino può essere una atrofia della vescichetta biliare della colecisti oppure l'accumulo al suo interno di liquido quindi si va incontro a quella che viene denominata idrobe della colecisti che può infettarsi quindi si crea del pus in una cavità già esistente appunto la colecisti e questa situazione va sotto il nome di empiema. Il calcolo però potrebbe anche se di piccole dimensioni migrare ovvero sia superare il dotto cistico e entrare nella via biliare principale e fermarsi da qualche parte la via biliare principale sbocca nel duodeno il calcolo può anche passare direttamente nel duodeno ma comunque non lo fa mai in maniera del tutta sintomatica e comunque se si ferma a qualunque altezza della via biliare può ostruire in tutto o in parte il passaggio della bile. Di conseguenza noi avremo che alla sintomatologia dolorosa tipo colica si associeranno altri sintomi come importanti come il subittero la colorazione gialla e delle mucose per esempio il bianco delle sclere dei nostri occhi o della mucosa orale o la colorazione francamente gialla quindi unittero vero e proprio della nostra pelle in conseguenza della stasi biliare. A queste situazioni spesso si associa anche febbre. Il medico chiaramente ricevendo il paziente farà come al solito un'accurata intervista un'accurata anamnesi si renderà praticamente quasi subito conto di con che cosa ha a che fare e poi effettuerà tutte le varie manovre che in questo caso sono corredo di un esame obiettivo dell'addome e che tendono a valutare bene proprio la regione dell'ipocondrio destro e dell'epicastrio. E mi riferisco soprattutto alla ricerca della doloribilità del punto cistico e alle manovre per vedere le dimensioni del fegato e la conformazione del margine inferiore del fegato e ancora possiamo citare la manovra di Schofarrivé per vedere la probabilità della zona pancreatico-duodenale e insomma tutte manovre che sono elencate e anche illustrate nel video sull'esame obiettivo dell'addome che è la visita medica dell'addome quindi che è già inserito all'interno di questo canale il medico quindi prescriverà degli accertamenti di laboratorio molto importanti in questo caso e poi l'ecografia ecco l'ecografia è un esame cardine perché ci può subito chiarire se siamo di fronte a una calcolosi della colicissia ancora non complicata e oppure effettivamente a una litiasi della colicisti che invece è purtroppo già andata incontro a delle complicanze come quelle che abbiamo già citato tipo l'idrope o l'empiema con il corredo sintomatologico che chiaramente comporta una situazione di emergenza oppure si è verificata una calcolosi del coletoco per la migrazione del calcolo all'interno della via biliare principale il trattamento della calcolosi della colicissia non complicata è certamente chirurgico e consiste nell'asportazione appunto della vescichetta biliare va sotto il nome di colicistectomia questo intervento oggi può essere fatto anche attraverso una metodica chirurgica di tipo mini-invasivo per via videolaparoscopica sia l'intervento tradizionale che quello mini-invasivo non sono gravati di particolari rischi e particolari complicanze mentre invece le complicanze della calcolosi della colicissia come la situazione di empiema soprattutto sono patrimonio della chirurgia d'urgenza l'alitiasi del coleto merita degli accertamenti più approfonditi come la colangio-pancreatografia retrograta per via endoscopica che peraltro può anche essere risolutiva perché per via endoscopica è anche possibile effettuare delle manovre che risolvono il problema per la espulsione o estrazione del calcolo incuneato nella via biliare vediamo vediamo adesso le caratteristiche della colica renureterale che come tipologia di dolore non sono diverse da quelle della colica biliare forse più potenti come intensità ma chiaramente è diversa la sede di insorgenza del dolore e attenzione la caratteristica irradiazione il dolore della colica renureterale anche qui insorge quando c'è la formazione di un calcolo che migra dalle cavità renali verso l'uretere perché anche qui un calcolo che sia localizzato all'interno delle cavità renali spesso è oggetto di un riscontro del tutto casuale durante magari un'ecografia fatta per tutt'altri motivi se il calcolo invece tende a migrare a livello dell'aggiunzione renureterale o in qualunque tratto dell'uretere causa una ostruzione con un impedimento totale o parziale al defuso dell'urina ecco qui di nuovo il discorso del viscere cavo con muscolatura liscia l'uretere in questo caso che si contrae il bacinetto renale che si contrae contro un ostacolo nel tentativo di superarlo il dolore il paziente lo riferisce di solito in regione lombare ma ben presto il dolore viene in avanti nella regione del fianco e poi scende verso il basso ricordate che invece la colica biliare saliva verso l'alto scende verso il basso fino a giungere nelle grandi labbra a livello delle grandi labbra vaginali nelle donne e a livello dell'emiscroto dalla parte interessata ovviamente dalla colica nell'uomo non raramente a questa sintomatologia dolorosa si associa ematuria emissione di sangue con le urine il paziente vede le urine color ambra e spesso si associa anche febbre il paziente ricorre assai spesso in queste situazioni a un ricovero d'urgenza o al suo medico curante ma molto spesso a un ricovero d'urgenza ecco che in questo caso il medico chiaramente farà immediatamente uso di farmaci antinfiammatori antispastici e cercherà di idratare il paziente se ci sono stati per esempio episodi di vomito per evitare quindi degli squilibri idroelettrolitici e poi certamente comincerà ad avviare degli particolari esami dal punto di vista semiologico fisico così come sono illustrati sempre nel video dedicato alla visita medica dell'addome per quanto riguarda la palpazione delle masse renali l'evidenziazione dei punti pielureterali superiore e medio l'effettuazione della manovra del Giordano ma ripeto tutte queste manovre e questi segni li vedrete ben illustrati nel video dedicato appunto all'esame obiettivo dell'apparato reno-ureterale così come illustrato nella visita medica dell'addome il medico quindi farà degli esami di laboratorio e anche in questo caso chiederà un esame ecografico che potrà sicuramente evidenziare la presenza del calcolo e forse già un'iniziale dilatazione dell'uretere per la stasi che questa istruzione ha creato in molti casi è utile degli approfondimenti di tipo radiografico o tomoradiografico che complicanze vi possono essere la dilatazione dell'uretere a cui abbiamo già accennato ma se il problema chiaramente non si risolve addirittura un danno renale con però chiaramente sono un po' casinimite con una vera e propria insufficienza del viscere non raramente a seguito di un trattamento medico adeguato si ha l'espulsione spontanea del calcolo oppure si può effettivamente con metodiche combinate radiologiche ed endoscopiche tentare l'estrazione nei calcoli che si fermano però molto in basso nell'uretere quasi a ridosso del passaggio dell'uretere in vescica la terapia per i casi che invece non sono risolvibili in altro modo è chiaramente la litotrissia extracorporea o endoscopica che usa l'azione di particolari onde d'urto in conclusione devo dire che soltanto nelle coliche intestinali conseguenti a fattori fisici per esempio un colpo di freddo o a situazioni influenzali da virosi intestinale o a intenso meteorismo è giustificato un trattamento in automedicazione in tutti gli altri casi è invece consigliabile il ricorso al medico curante o allo specialista o direttamente ad un pronto soccorso sicuri che il problema verrà affrontato nel migliore dei modi e nel migliore dei modi risolto grazie